Ben trovati, nuovo appuntamento con Primo Piano, vi presento subito l'ospite di oggi, il dottore Piero Cavaleri, psicologo, assessore comunale alla Solidarietà Sociale. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Che settimana è stata? È stata, almeno dal mio osservatorio, una settimana molto intensa. Noi non stiamo andando in ferie, siamo sulle nostre postazioni come amministrazione, come giunta. Ed è stata una settimana, dal nostro punto di vista, molto ricca. Per esempio abbiamo lavorato per il reddito minimo di inserimento. Domani faremo un'aggiunta straordinaria per garantire a questi lavoratori la prosecuzione, quindi la non interruzione del loro lavoro. Abbiamo fatto un'altra aggiunta straordinaria per riuscire a captare un bando che ci permette di gareggiare, al fine di avere a Caltanissetto un dormitorio comunale aperto sia ad extracomunitari che a italiani. E se vinciamo questo bando avremo una struttura che per la prima volta offre alla città un servizio per cui i senza tetto, i senza fissa dimora avranno un letto e un tetto. Stiamo, come dire, definendo, abbiamo ormai già definito il nostro bilancio, che è, come dire, un documento molto importante. La vita della nostra giunta è stata caratterizzata anche da un incontro che ieri abbiamo avuto con gli indigenti che sono numerosissimi e per volontà del sindaco abbiamo voluto avere non soltanto degli incontri individuali, ma li abbiamo voluti incontrare insieme per condividere la loro sofferenza, come dire, a volte la loro disperazione, ma per sentirci in qualche modo comunità in cui chi amministra e chi è amministrato sa che vive nello stesso spazio urbano, nella stessa città, nella stessa comunità, con ruoli diversi ma con una medesima appartenenza. Questa esperienza che io sto facendo dopo poco più di un mese e mezzo è un'esperienza faticosa ma sicuramente stimolante perché ti fa toccare con mano come i problemi di una città come la nostra non li può risolvere un sindaco, non li può risolvere un assessore, non li può risolvere una giunta, ma lo può risolvere lo stare insieme, il sentirci comunità. Io portando i miei problemi, io portando l'altro, portando le risorse che può mettere a disposizione. È stata una settimana intensa, pesante, ricca però di vitalità. Ci siamo, combattiamo e vogliamo fare in modo che questa città si dia un colpo di rene, un colpo d'ala. Torniamo in studio, come nasce il suo impegno per la politica? Io, come lei sempre la faccio, lo psicologo, sono dirigente psicologo dell'ASP di Caltanissetta e praticamente da 40 anni, il prossimo anno andrò in pensione, da 40 anni sto in mezzo alla gente, sto in mezzo anche alle ferite della famiglia, delle coppie, dei giovani facendo lo psicologo in un consultorio familiare. E stando, diciamo, da questo fronte, tu tocchi con mano come la famiglia che si separa, il giovane che ha problemi di tossicodipendenza, l'adulto, il padre che ha problemi di alcolismo, molto spesso perviene ad uno stato di disagio perché è attorno a una comunità che non gli fa respirare aria pura. E io ho toccato con mano come la salute mentale delle persone molto spesso è legata alla salute della comunità a cui appartiene. E allora mi sono reso conto che fare lo psicologo ha degli limiti estremi, perché tu ti occupi dell'individuo ma non dello sfondo che è dietro all'individuo. E allora l'interesse per me verso la politica è nata dal bisogno di agire non più soltanto a livello del privato, a livello del singolo individuo, della singola coppia, della singola famiglia, ma diventare in qualche modo per certi aspetti, è grosso, è pretenzioso dirlo, ma dentro la mia mente è scattato questo meccanismo, essere terapeuta della comunità, portando all'interno della comunità positività, fiducia nella propria vitalità, nelle proprie risorse. Ecco, riuscire a fare politica così come ho fatto per tanti anni lo psicoterapeuta, aiutare le persone a diventare consapevoli del positivo, delle energie, delle risorse, della vitalità che c'è in ognuno, è possibile farlo con l'individuo, con la coppia, con la famiglia, ma anche con la comunità. Caltanissetta vive l'emergenza povertà, una piaga antica. Sì, è una piaga antica perché Caltanissetta è un'isola nell'isola, tagliata fuori dai grossi flussi commerciali, industriali, produttivi, apparteneva a un'area feudale della Sicilia, quindi la cultura imprenditoriale tutto sommato non appartiene alla storia di questa città, se si esclude l'imprenditoria legata all'epoca d'oro delle miniere. E chiaramente laddove non c'è cultura imprenditoriale c'è povertà, la nostra è una realtà molto povera da sempre, è un'area che ha prodotto tanta immigrazione, e i miei due nonni sono stati all'inizio del Novecento immigrati negli Stati Uniti. La povertà di oggi è una povertà che, a mio avviso, è variegata. La povertà che io, soprattutto in questo mese e mezzo, ho potuto toccare con mano, non è una povertà omogenea. Ci sono sacche di povertà che vivono la propria povertà con estrema dignità e che all'interno di una condizione di povertà che alle volte li umilia, conservano la propria dignità, conservano la propria creatività, la propria voglia di darsi da vivere in maniera dignitosa senza chiedere. E ci sono poi altri poveri che invece per certi aspetti fanno dell'essere povero il loro mestiere, anziché andare a cercare lavoro, cercano l'espediente perché non sanno fare che questo. Hanno acquisito una cultura parassitaria da una società che li ha in qualche modo probabilmente abituati a vivere da parassiti, per cui non sanno inventarsi anche un espediente per vivere, sanno soltanto stendere la mano, chiedere, lamentarsi. Sono l'esito finale di una società del welfare, della sicurezza sociale che ormai non esiste più e che però ha creato questo modo di dipendere dagli altri. E poi c'è un'altra categoria, una terza categoria di poveri che sono quelli che sono diventati poveri negli ultimi 5-6 anni con la crisi economica, piccoli imprenditori, persone che addirittura alle volte magari avevano alle proprie dipendenze degli operai, piccoli imprenditori nell'ambito dell'edilizia che gradatamente hanno dovuto vendere la casa per poter vivere, poi non hanno potuto nemmeno permettersi di pagare l'affitto e che adesso vivono in uno stato di indigenza conclamata e non riescono ad avere un futuro a darselo perché magari hanno una certa età. Esistono sacche di povertà diverse. E poi ci sono le povertà che non sono legate all'indigenza materiale, ma sono legate all'indigenza, come dire, morale, etica, persone che magari hanno da vivere, ma che non hanno una vita familiare, relazionale, umanamente gratificante, per cui ci sono le non famiglie, ci sono i non genitori, ci sono i figli che non hanno alle spalle una presenza genitoriale adeguata, pagante, gratificante. Ecco, ci sono povertà diverse. Siamo giunti al termine, che settimana si aspetta? Ecco, per quanto mi riguarda da assessore alle politiche sociali, la prossima settimana, che poi è la settimana di Ferragosto, quindi abbiamo una settimana un tantino corta, la prossima settimana ho calendarizzato una serie di incontri con alcune realtà del volontariato nisseno, perché la prima delibera che io come assessore ho fatto adottare all'aggiunta Ruvolo è stata una delibera sul volontariato. Noi ci troviamo veramente in un grave stato di indigenza, di difficoltà, possiamo dire sicuramente che il 50% di questa città vive nella povertà, nella miseria. E la povertà, la miseria, come abbiamo detto, della nostra città non riguarda soltanto la storia, le radici, il destino geoeconomico, geopolitico della nostra città, ma riguarda anche una condizione più globale. Noi tutti stiamo vivendo una crisi che dura dal 2008 e che è una crisi dovuta ad un'economia che da nazionale è diventata globale. Le guerre oggi non si fanno più con i cannoni, si fanno a colpi di operazioni finanziarie, che però producono come le guerre poveri. Ora, come nelle guerre non sono i soldi che risollevano un popolo, ma la solidarietà che risolleva un popolo e gli permette di tornare a vivere, di voltare pagina, anche oggi, dopo i postumi di una guerra che è economico-finanziaria, noi possiamo sperare che la nostra comunità possa risollevarsi non grazie a finanziamenti che verranno dall'Europa, che verranno dal governo centrale, ma grazie allo spirito di solidarietà che può venire fuori dagli stessi nisseni, magari da quelli che hanno di più rispetto a quelli che hanno di meno. E allora, proprio per questo, la nostra amministrazione vuole puntare tantissimo sul volontariato, vuole puntare, cioè, sulla possibilità che delle persone, gratuitamente, diano ad altri che non hanno. E Diano non sa, non soltanto in termini economici, ma in termini di risorse umane, di relazioni umane, di disponibilità umana, di professionalità. Sicché abbiamo fatto, appunto, una delibera che ha come obiettivo quello di attivare e organizzare il volontariato. La prossima settimana io, appunto, cercherò di incontrare, e lo farò anche, naturalmente, in seguito, tutta una serie di associazioni che vogliamo motivare e stimolare a lavorare insieme per la città, e soprattutto per chi in questa città vive ferite nuove e profonde. Grazie all'assessore Cavaleri per essere stato con noi. Grazie a voi. Informiamo ai nostri telespettatori che il telegiornale riprenderà dopo la pausa estiva dal 9 al 24, lunedì 25 agosto. Primo piano tornerà sabato 30. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti.